Ornella Toselli è la nuova presidente della consulta femminile regionale del Piemonte. È stata eletta durante la seduta di insediamento di giovedì 3 ottobre. Per lei 40 voti di preferenza. La affiancheranno come vicepresidenti Manuela Pendino e Maria Parigi, mentre sono state elette come segretarie dell'ufficio di presidenza Graziella Pizzoccaro Camurati e Silvia Ramasso. La neopresidente succede all'uscente Cinzia Pecchio e assume la carica più alta dell'organismo consultivo dopo aver fatto parte della sua segreteria dal 1993 al 2019. Condivisione, accordo e partecipazione le linee guida che ispireranno il suo lavoro. Vorrei recuperare, al di là della convegnistica, delle pubblicazioni e di altri tipi di attività, vorrei recuperare molto questa funzione di consultazione ma anche di proposta nei confronti del Consiglio e dell'Aggiunta regionale a favore delle donne perché noi di questo dobbiamo occuparci. Sappiamo che le donne vivono un momento difficile, siamo ogni giorno sui giornali con problemi di femminicidio e di maltrattamenti ma vi sono anche problemi più quotidiani. La gestione della cura della famiglia sarà oggetto di riflessioni e eventualmente anche di azioni positive. La consulta femminile istituita nel 1976 contribuisce alla programmazione e alla legislazione regionale occupandosi della condizione di vita, di lavoro e di salute della donna e favorendone la partecipazione all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale. Le operazioni di votazione e gli scrutini per l'elezione della nuova consulta regionale femminile sono stati svolti dai consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza Michele Mosca e Gianluca Gavazza e sono stati coordinati dalla Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasi. Una consulta femminile rinnovata in tutti gli effetti condivisa dalla sperante maggioranza delle elettrici indubbiamente con la quasi acclamazione della totalità dell'Assemblea per eleggere la Presidente. Perciò assolutamente il buon lavoro si vede dal mattino. C'è la possibilità sicuramente come è stato in passato, e nei decenni passati che la consulta proponga eleggi effettivamente fattibili e interessanti per il Consiglio regionale. Attendiamo il buon lavoro.